Vorrei chiedere una cosa, vorrei chiedere scusa pubblicamente al mio figlio perché ieri nelle dinamiche della politica che ci ruba il tempo, ci fa apparire le cose importanti quando non lo sono, mi sono dimenticato solo in serata di fargli gli auguri. Oh mamma mia, terribile, terribile. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Non ci credo e questo ti ha ucciso. Quanti anni ha? Quanti anni ha? 15. Ma come si chiama? Federico.